Con un solo clic sul mouse è possibile visionare tessuto made in Prato in pronta consegna, anche per piccole quantità. Nasce PratoExpo.com, una vetrina virtuale dei materiali prodotti dai lanifici del distretto tessile di Prato, analizzati e controllati per offrire al cliente qualità oltre che velocità. Il portale è nato su iniziativa del consorzio Prato Trade. A gestirlo sono due esperti del settore, Fabio Fontani e Alessandro Vannini, che amano definire Prato Expo una fiera virtuale del tessile. Non è un e-commerce, non si compra niente, è un modo per mettere in contatto produttori e clienti. Attivo dallo scorso 15 febbraio, in questo momento il portale ha online 500 tipi di tessuti, dalle sete leggere al tessuto cappotto. Il cliente sceglie e mette nel carrello. La richiesta arriva all'anificio che si occupa di spedire il campione al cliente. Ad oggi, in meno di un mese, siamo già a 150 ordini di campioni e vasi provenienti da tutto il mondo. Siamo partiti pensando, mirando a tutte quelle aziende, che sono decine di migliaia nel mondo, che hanno problemi di relazionarsi con aziende industriali perché sono piccoli, e poi ci siamo accorti che invece anche i grandi retailer, quelli con migliaia di negozi, in realtà ogni giorno, ogni settimana, hanno bisogno di trovare merce pronta. Il portale sarà tra le buone pratiche che il distretto Tessile porterà lunedì prossimo alla Camera di Commercio al workshop del progetto europeo Textile and Clothing Business Labs, che avrà durata quadriennale e che vede il comune di Prato capofila. L'obiettivo è valorizzare le energie creative del territorio sviluppando nuovi modelli organizzativi e produttivi che abbiano un'impronta ecosostenibile. Il progetto prevede la creazione di veri e propri laboratori aperti alla partecipazione di imprenditori, artigiani, designer, associazioni, centri di ricerca e istituzioni, questi progetti che porterà Confindustria Toscana Nord. Non tanto lo sportello innovazione che è da 2013 che è attivo, l'altra buona pratica è il protocollo appena firmato del Detox, che riunisce 20 aziende di Confindustria Toscana Nord, le quali volontariamente e coordinate appunto dall'associazione, hanno deciso di aderire appunto al protocollo promosso a Greenpeace, per eliminare entro il 2020 moltissime sostanze tossiche.